C'è? Un schiazzi? Questa ha seguitato a Maya e a Lily. Buongiorno, Nell. Buongiorno, Lily. Buongiorno, Naya. Buongiorno, Tina. Buongiorno, Rafael. Buongiorno, Fabiana. Buongiorno, Pedro. Buongiorno, Maria. Buongiorno, Luca. Noi, non ho avuto un test di matematica. E' scomparato, giusti un libro, Carmen. Non ho mai visto. Non scrivere un test di porri, giusti sezio e fai. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Escriviti al nostro corso gratuito www.mesmerism.info Oh, guarda. Tieni. Ci vedi la trofina? Dai. Giovanni, dico il prossimo. Vieni, tu vieni per la plazza di Jovar? Ah, hai, è preciso. Vieni, per la plazza di Jovar. Alissa, Lilli, Maia! Ma io devo dire tu? E' una cerchiavo. No, vieni a scrivere un test. E tu d'era? Ehm, niente. No, vieni a fare il test. E poi vieni a preparare il test. Ed è? Ah. Oh, un scherzi! Siei? Sì, sei buono. Se allora le buon viare il testo,ake il testo. Non. Non, scrivere tuttoğίνo per la tua nelle. Servire il testo. Qui è inaidzna? Qual è chiuno? Sì. ... Buon appetito! Grazie a tutti